Ciao amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e ogni settimana vi racconto la storia di persone scomparse. Persone che sono letteralmente svanite nel nulla senza lasciare quasi nessuna traccia. Vi ricordo che lo scopo dei miei video è quello di dare voce ma soprattutto ricordare i protagonisti di questi cosiddetti cold case che sono dei casi irrisolti rimasti sempre aperti che aspettano soltanto di giungere ad una conclusione. Se questi video possono interessarvi allora non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere gli ultimi aggiornamenti ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Oggi amici vi racconto un caso che chi di voi mi segue da più tempo sicuramente ricorderà che era già presente sul mio canale perché è stato il mio primo video qui su youtube. Recentemente però ho deciso di cancellarlo perché appunto è stato il mio primo video qui su youtube quindi ero molto emozionata, non riuscivo a parlare bene con la videocamera per cui non ho raccontato proprio come avrei voluto la storia anche perché è un caso a cui io tengo particolarmente. Questo infatti è uno di quei casi che mi ha fatto avvicinare e mi ha spinto ad aprire un canale su youtube dedicato ai casi di persone scomparse. Ricordo che la prima volta che ho visto in tv un documentario dedicato alla scomparsa di questa persona sono rimasta talmente tanto colpita e frustrata da questa storia che mi è rimasta poi in testa per tantissimo tempo e sono andata su internet a cercare informazioni, ad approfondire la questione perché davvero è stato un caso che mi ha colpita particolarmente. Motivo per cui ho deciso di eliminare quel primo video fatto anche diciamo un po' frettolosamente quindi non ho approfondito proprio come avrei voluto per girarlo nuovamente oggi a distanza di quasi un anno. Oggi amici vi racconto il caso della scomparsa di Jennifer Kesser. Questo è un caso in cui palesemente è chiaro a tutti che qualcosa di brutto è accaduto alla persona scomparsa anche perché abbiamo delle riprese di alcune videocamere di sorveglianza che inquadrano una persona coinvolta nella faccenda però purtroppo in tutti questi anni ancora ad oggi non si conosce la verità. Jennifer Kesser nasce il 20 maggio del 1981 nel New Jersey e cresce a Tampa, la terza città più abitata della Florida dopo Jacksonville e Miami da mamma Joyce e papà Drew Kesser. Jennifer ha anche un fratello più piccolo di nome Logan. La ragazza aveva un meraviglioso rapporto con i suoi genitori che amava incondizionatamente e anche con suo fratello. I due infatti erano molto legati ed erano sempre stati presenti e di supporto l'uno per l'altra legati da un profondo amore fraterno. Gli amici e la famiglia descrivono Jennifer come una persona estremamente benvoluta e anche molto intelligente. Jennifer era infatti una studentessa fantastica e aveva ottimi voti in tutte le materie. A scuola andava molto d'accordo con tutti e non aveva mai dato alcun tipo di problema non si metteva mai nei guai. Crescendo era diventata una ragazzina molto curiosa amava imparare sempre cose nuove faceva costantemente domande insomma aveva proprio brama di conoscere di apprendere sempre cose nuove. Con il passare degli anni era poi diventata una donna forte indipendente, molto abitudinaria cosa da non sottovalutare e poi capirete il perché. Sapere esattamente cosa voleva dalla vita e chi voleva diventare ed ogni volta che si prefissava degli obiettivi faceva di tutto per raggiungerli. Jennifer si diploma alla Vivian Gaither High School di Tampa e successivamente si laurea all'Università della Florida Centrale ad Orlando in Economia e Finanza. Subito dopo essersi laureata trova lavoro presso una società una multiproprietà di investimenti ad Orlando e sin da subito si dimostra una persona molto seria molto dedita al suo lavoro sempre puntuale e se per qualche motivo tardava oppure aveva qualche imprevisto lo comunicava immediatamente o addirittura in anticipo. Come vi dicevo prima Jennifer era sempre stata una persona molto abitudinaria infatti potremmo quasi dire che la sua vita era proprio come un orologio andava a lavorare sempre alla stessa ora telefonava ai suoi genitori ogni giorno sempre alla stessa ora insomma aveva una vera e propria routine quotidiana. La ragazza riesce a distinguersi rapidamente anche al lavoro infatti nel 2005 quindi dopo soli due anni dopo essere stata assunta all'età di 24 anni riesce ad ottenere la sua prima promozione e ad acquistare così la sua prima casa in un condominio che in realtà era proprio un complesso condominiale chiamato se non erro Mercy Millennia sempre ad Orlando in Florida che distava circa due ore di auto dall'abitazione dei genitori. L'appartamento di Jennifer si trovava però come ho appena detto in un complesso che all'epoca era ancora in fase di sviluppo potremmo dire in realtà che era proprio ancora un cantiere a cielo aperto sempre pieno di operai. Inoltre proprio per questo motivo molti di questi appartamenti non erano abitati o comunque non erano ancora stati venduti e pare che ora non so se fosse una cosa proprio del tutto legale o comunque autorizzata dalla ditta che svolgeva i lavori però pare che molti di questi operai spesso si fermavano proprio a dormire in questi appartamenti praticamente vivevano lì durante la settimana per evitare di percorrere lunghe distanze e quindi di dover viaggiare per recarsi al lavoro. Ora, da quello che sappiamo pare che la presenza di questi operai facesse sentire Jennifer un po' a disagio infatti più volte questi la fissavano in maniera un po' inquietante oppure la fischiavano o ancora facevano dei commenti poco gradevoli insomma le facevano del vero e proprio cut-calling. Questo noi lo sappiamo perché aveva confidato la cosa anche ai suoi genitori infatti spesso quando usciva di casa oppure tornava da lavoro e doveva attraversare il complesso condominiale per arrivare al suo appartamento si intratteneva al telefono con qualcuno per evitare di essere disturbata. In ogni caso, a parte questo le cose nella vita della ragazza stavano andando davvero a gonfie vele perché aveva un lavoro che amava aveva acquistato la sua prima casa ed aveva trovato anche l'amore. Jennifer era infatti fidanzata con un ragazzo di nome Robert Allen i due si erano conosciuti un anno prima quindi nel 2005 in un bar ad Orlando e secondo la testimonianza dei genitori di Jennifer pare avessero una relazione molto sana fatta di fiducia e rispetto reciproco. L'unica pecca era che però Robert viveva a Fort Lauderdale a circa tre ore di distanza da dove viveva Jennifer ma nonostante questo i due andavano molto d'accordo e cercavano di vedersi ogni volta che gli era possibile. Ed in effetti il fine settimana prima che Jennifer scomparisse i due erano stati in vacanza per un fine settimana romantico a Saint-Croix nelle isole vergini americane. Domenica 22 gennaio di ritorno da questa vacanza Jennifer decide di fermarsi per la notte a casa del ragazzo e di ripartire direttamente l'indomani mattina molto presto per le ore 6 e di andare direttamente al lavoro senza passare da casa quindi doveva essere al lavoro per le ore 9. Fort Lauderdale come vi ho detto prima distava a circa tre ore di distanza dal luogo in cui viveva e lavorava Jennifer quindi aveva calcolato tutto alla precisione. Ed in effetti questo è proprio quello che fa perché lunedì 23 gennaio del 2006 Jennifer parte da Fort Lauderdale per le ore 6 ed arriva al lavoro intorno alle ore 9. Jennifer trascorre lì praticamente gran parte della sua giornata e alle 18 al termine della sua giornata lavorativa si mette in macchina e fa ritorno a casa. Alle 18 e 15 sappiamo che Jennifer come d'abitudine chiama i suoi genitori per dire loro che stava tornando a casa che andava tutto bene insomma le solite cose dopodiché chiama la sua migliore amica Lorraine Lorraine era una sua amica sin dai tempi delle elementari le due erano cresciute insieme avevano condiviso le esperienze più belle ma anche quelle meno belle della loro vita si confidavano sempre l'un l'altro insomma erano legate da un affetto puro e sincero. Lorraine successivamente dichiarerà agli inquirenti che quel giorno Jennifer le aveva confidato di essere un po' giù di morale perché era appena rientrata dal weekend romantico che aveva trascorso insieme al ragazzo ed era un po' malinconica proprio perché in quei momenti avvertiva sempre di più la distanza che la separava dal suo fidanzato. Alle 21 e 56 sappiamo poi che telefona al suo fidanzato Robert per parlare un po' e come sempre ovviamente per darsi la buonanotte. Ora anche in questo Jennifer era molto abitudinaria infatti aveva l'abitudine di telefonare al suo ragazzo sempre agli stessi orari in particolar modo la mattina prima di recarsi al lavoro e poi la sera prima di andare a dormire e quella purtroppo è l'ultima volta che qualcuno sente Jennifer. Purtroppo da questo momento in poi è impossibile sapere che cosa le sia successo oppure in quale preciso momento lei sia scomparsa. La mattina del 24 gennaio del 2006 infatti come ogni mattina Jennifer sarebbe dovuto uscire di casa tra le ore 7.30 e le 8 per recarsi al lavoro e intorno a quell'orario avrebbe anche dovuto chiamare il suo fidanzato Robert per dargli il buongiorno e chiacchierare un po' però quella mattina non lo fa Robert non riceve nessuna chiamata quindi intorno alle ore 8 decide di telefonarle lui però si attacca subito alla segreteria telefonica il fidanzato non si preoccupa più di tanto perché sapeva che quella mattina Jennifer aveva un'importante riunione di lavoro quindi pensò che probabilmente la ragazza era impegnata e che lo avrebbe sicuramente telefonato non appena possibile però questo come penso possiate immaginare non accadde mai perché non solo Jennifer quel giorno non telefonò mai a Robert ma non si presentò neanche mai al lavoro il suo capo un uomo di nome John un'ora dopo l'orario in cui la ragazza si sarebbe dovuta presentare all'appuntamento di lavoro iniziò a preoccuparsi l'uomo conosceva Jennifer sapeva che era sempre stata molto puntuale e soprattutto responsabile il che voleva dire che se per qualche motivo aveva avuto un imprevisto oppure si sentiva poco bene avrebbe sicuramente avvisato e questo lo faceva in un giorno normale quindi figuriamoci quando sapeva di avere un incontro di lavoro importante ed essendo già trascorso un'ora e non avendo sue notizie decise di contattare i suoi genitori i genitori di Jennifer ovviamente risposero che non avevano idea del motivo per cui quel giorno la figlia non si fosse presentata al lavoro però non appena attaccarono con il datore di lavoro decisero di contattarla telefonicamente più e più volte però senza alcun risultato perché si attaccava sempre la segreteria telefonica i genitori iniziarono quindi a preoccuparsi e decisero di contattare Logan il fratello di Jennifer per spiegargli la situazione di conseguenza il ragazzo decise di contattare dapprima Lauren la migliore amica e poi Robert il fidanzato ed entrambi gli dissero di non aver più sentito Jennifer dalla sera prima e di non riuscire a mettersi in contatto con lei telefonicamente per via della segreteria telefonica perciò a questo punto sia il fratello che i genitori decisero di mettersi in macchina e di recarsi personalmente presso l'abitazione di Jennifer a due ore di distanza per capire che cosa stava succedendo il primo ad arrivare fu Logan e la prima cosa che fece ovviamente fu quella di bussare ripetutamente alla porta di casa di Jennifer però non rispose nessuno 15 minuti più tardi arrivarono anche i genitori che avevano una chiave di riserva che ovviamente utilizzarono per entrare nell'appartamento la prima cosa che notarono non appena arrivarono nel complesso fu però che l'auto di Jennifer non c'era i parcheggi all'interno del complesso erano tipo numerati erano assegnati e il posto in cui doveva essere parcheggiata l'auto della ragazza in realtà era vuoto all'interno l'appartamento sembrava essere del tutto normale non c'erano segni di lotta o effrazione nessuna finestra aperta insomma niente di niente anzi in realtà sembrava che Jennifer si fosse preparata proprio per recarsi al lavoro quella mattina infatti sul suo letto c'erano una gonna e una camicia come se la ragazza avesse preparato alcuni cambi quella mattina da provare per recarsi al lavoro inoltre le pareti della doccia del suo bagno erano ancora umide proprio come se quella mattina la ragazza avesse fatto una doccia ed un'asciugamano bagnata era stata appoggiata sul lavandino il letto inoltre era disfatto proprio come se Jennifer effettivamente quella notte avesse dormito lì le uniche cose che mancavano erano i suoi effetti personali come ad esempio la borsa oppure la sua valigetta da lavoro e il suo cellulare insomma proprio come se la ragazza si fosse preparata per andare al lavoro portando con sé tutte le sue cose e questo ovviamente fece preoccupare ancora di più i suoi genitori perché era davvero molto strano che la ragazza in realtà poi al lavoro non si fosse mai presentata i genitori decisero quindi di contattare la polizia per denunciarne la scomparsa la polizia però inizialmente non prese proprio sul serio questa scomparsa perché Jennifer era una donna adulta era scomparsa relativamente da poco tempo quindi all'inizio diedero poca importanza a questa segnalazione i genitori di Jennifer comunque non persero tempo e decisero di mettersi subito all'opera facendo stampare centinaia e centinaia di volantini che distribuirono in tutta l'aria intorno al luogo in cui viveva la ragazza bussando proprio porta per porta alla fine comunque dopo varie insistenze da parte dei genitori la polizia decise di intervenire e dopo aver raccolto varie testimonianze tra familiari amici e colleghi della ragazza e dopo aver perlustrato anche il suo appartamento si convinsero che non si trattava di allontanamento volontario decisero quindi di coinvolgere cani molecolari elicotteri che sorvolassero l'intera area del luogo in cui viveva Jennifer dall'alto chiesero anche l'intervento di alcuni sommozzatori che perlustrassero torrenti d'acqua che si trovano sempre intorno all'area in cui viveva Jennifer dove erano presenti anche degli alligatori e vennero organizzate diverse squadre di ricerca però nonostante tutto questo non venne fuori assolutamente nulla di rilevante i genitori di Jennifer capirono quindi che il solo aiuto della polizia non poteva bastare e quindi decisero di diffondere quanto più possibile la notizia della scomparsa di Jennifer attraverso i media quindi giornali e telegiornali perché avevano bisogno di spargere la voce in modo tale che se qualcuno aveva visto o sentito qualcosa di sospetto il giorno della scomparsa di Jennifer avrebbe potuto contattare la polizia per fornire loro informazioni utili ed in effetti la cosa funzionò perché due giorni dopo la scomparsa di Jennifer un uomo che abitava in un complesso condominiale vicino a quello di Jennifer a circa due miglia di distanza dopo aver visto il servizio al telegiornale contattò la polizia per dire loro che un'auto molto simile a quella di Jennifer era parcheggiata all'interno del parcheggio del complesso condominiale ed in effetti si trattava proprio della Chevrolet Malibu nera del 2004 di Jennifer i genitori di inquirenti a questo punto erano pieni di speranza di poter riuscire a capire finalmente cosa fosse accaduto alla figlia o magari di ritrovarlo oppure di trovare una qualche traccia magari anche di DNA all'interno del veicolo ma in realtà la cosa finì per rivelarsi del tutto inutile l'auto infatti sembrava essere stata letteralmente ripulita non trovarono nessuna traccia e anche gli effetti personali di Jennifer non c'erano la polizia però mentre era lì notò che in tutta l'area del complesso condominiale erano presenti alcune videocamere di sorveglianza alcune delle quali proprio puntate verso il parcheggio decisero quindi di visionare le riprese di queste videocamere di sorveglianza e amici miei preparatevi perché questa sarà la cosa più frustrante di tutta la storia e la cosa che vi farà arrabbiare più di tutto nelle riprese delle videocamere di sorveglianza si vede qualcuno alla guida dell'auto di Jennifer che entra nel parcheggio parcheggia appunto il veicolo e poi rimane in auto per una trentina di secondi dopodiché scende dal veicolo e si allontana senza guardarsi mai indietro ora i filmati di queste videocamere di sorveglianza non erano dei veri e propri filmati erano più che altro dei fotogrammi e mentre questa persona si allontana dall'auto passa vicino alla recinzione che separava la piscina del complesso condominiale dal parcheggio e le telecamere riprendono questa persona nel momento esatto in cui il volto di questa persona è oscurato dai pali più spessi che facevano parte di questa recinzione in pratica gli unici fotogrammi che abbiamo in cui si potrebbe vedere chiaramente l'identità di questa persona il suo viso è perfettamente oscurato dalla recinzione una roba che se ci provi altre decimila volte non ci riesci comunque nessuno dei familiari o degli amici di Jennifer ha riconosciuto questa persona le cui caratteristiche fisiche comunque non erano ben chiare gli inquirenti hanno portato i cani molecolari all'interno dell'auto e questi dopo aver usato il veicolo hanno condotto la polizia nuovamente presso il complesso condominiale in cui viveva il che poteva dire sia che avevano captato l'odore di Jennifer e quindi li avevano condotti nuovamente presso il complesso condominiale in cui viveva oppure che avevano captato l'odore di qualcuno che o viveva oppure si aggirava sempre in quel complesso condominiale e la cosa assurda in tutta questa storia sono anche le tempistiche perché questa persona non identificata viene ripresa intorno a mezzogiorno del 24 gennaio del 2006 e più o meno sempre intorno a quell'orario i genitori di Jennifer si stavano recando proprio presso l'abitazione della ragazza erano praticamente quasi arrivati quindi contemporaneamente potremmo dire al fatto che i genitori stavano controllando l'appartamento di Jennifer questa persona si trovava a poche miglia da lì e stava abbandonando l'auto della ragazza in quel parcheggio l'FBI ha inoltre provato a migliorare la qualità del video ma purtroppo questo non ha prodotto comunque nessun risultato l'abitazione di Un giornalista ha definito questa persona, la person of interest si dice in America, quindi il sospettato più fortunato di sempre. Le autorità purtroppo non sono state neanche in grado di rintracciare il segnale del telefono di Jennifer perché risultava spento. Come consuetudine gli investigatori ovviamente hanno interrogato da prima i familiari di Jennifer, dopodiché il fidanzato, gli amici e anche alcuni colleghi di lavoro, per capire se qualcuno di loro potesse avere un motivo per rapirla. La famiglia venne rapidamente esclusa dalla lista dei sospettati, dopodiché venne interrogato il fidanzato Robert, il quale però fornì un alibi che venne poi successivamente confermato dai tabulati telefonici. Robert disse infatti di trovarsi a Fort Lauderdale, che gli stava appunto a circa tre ore di distanza dal luogo in cui viveva Jennifer e questo venne appunto confermato dai suoi tabulati telefonici. A tal proposito ci tengo a precisare che in base a diverse testimonianze pare che tra Jennifer e Robert ci fosse davvero un legame molto stretto, cioè due si amavano veramente tanto. I genitori di Jennifer non hanno mai dubitato del coinvolgimento di Robert in questa faccenda. Una teoria che poi anche una delle piste varate dagli inquirenti a cui io personalmente credo fermamente è quella che vede gli operai che lavoravano nel cantiere del complesso condominiale in cui viveva Jennifer coinvolti nella sparizione della ragazza. Da varie testimonianze infatti sappiamo che alcune volte gli operai potevano entrare in alcuni di questi appartamenti anche abitati come appunto quello di Jennifer perché c'erano ancora alcuni lavori da ultimare ovviamente chiedendo il permesso di entrare come ad esempio fare ultimare delle rifiniture oppure verniciare alcune pareti. E quando questo accadeva Jennifer rimaneva sempre al telefono con il padre oppure il fidanzato perché come vi dicevo all'inizio gli operai tendevano a fissarle in maniera un po' inquietante oppure a farle battute di cattivo gusto. Quindi era una situazione che la metteva profondamente a disagio. Gli inquirenti ovviamente hanno provato ad interrogare alcuni di questi operai però con non poche difficoltà perché molti di questi erano stranieri quindi non parlavano bene la lingua. Inoltre molti di questi operai lavoravano a nero oppure non avevano il permesso di soggiorno quindi non appena la polizia iniziò a fare qualche domanda molti di questi operai praticamente si dileguarono. Perciò proprio per questo motivo era impossibile capire quanti operai avessero già effettivamente interrogato e quanti invece ne dovevano interrogare. Anche perché non esisteva un registro dove appunto erano segnati i nomi di tutti gli operai che lavoravano in cantiere quel giorno quindi il giorno della scomparsa di Jennifer oppure i giorni precedenti. Ed è proprio per questo motivo che secondo me questa è una delle piste più attendibili perché è possibile che gli operai essendo lì tutti i giorni abbiano memorizzato le abitudini di Jennifer oppure i suoi orari e quindi abbiano poi deciso di agire in base a queste informazioni. In base a questa teoria si suppone poi che il corpo di Jennifer sia stato gettato in un torrente d'acqua lì vicino e che poi gli alligatori abbiano fatto il resto. Vi dico che secondo me questa è la pista più attendibile anche perché gli indumenti indossati dalla persona ripresa dalle videocamere di sorveglianza sembrerebbero essere molto simili alla divisa che indossavano gli operai presenti nel cantiere. Ora vi faccio vedere una foto quindi vi mostro una foto poi voi ditemi nei commenti che cosa ne pensate. Un'altra pista sembrerebbe poi condurre sul posto di lavoro di Jennifer. Nell'azienda in cui lavorava Jennifer lavoravano molte altre persone e alcuni dei suoi colleghi secondo le testimonianze avevano mostrato interesse nei suoi confronti. In particolar modo un collega che insisteva fortemente affinché la ragazza uscisse con lui nonostante i ripetuti rifiuti di Jennifer. La polizia ha comunque interrogato tutte queste persone anche se secondo John il datore di lavoro di Jennifer gli inquirenti hanno condotto degli interrogatori un po' superficiali insomma che non abbiano indagato a sufficienza. Qualche anno più tardi però nel 2010 una ragazza che lavorava anche nell'azienda ha effettivamente presentato un'ordinanza restrittiva nei confronti dello stesso collega che aveva ripetutamente chiesto di uscire a Jennifer. Anche se da quello che sappiamo non ci sono prove che questo ragazzo abbia commesso qualcosa nei confronti di questa ragazza ed effettivamente pare che la donna abbia successivamente dichiarato di averlo fatto perché aveva paura che quello che era successo a Jennifer potesse in qualche modo accadere anche a lei. Nel maggio del 2007 quindi ad un anno di distanza dalla scomparsa di Jennifer la società per cui lavorava ha offerto una ricompensa di un milione di dollari per chiunque avesse informazioni sul caso però purtroppo anche in questo caso non è venuto fuori nulla di rilevante. L'ultima pista poi che è stata presa in considerazione è quella che vede Jennifer vittima del traffico di esseri umani. La Florida infatti ha uno dei tassi più alti di criminalità che riguarda la tratta di esseri umani anche se vi dico il mio parere personale questa secondo me è la pista meno probabile è possibile però secondo me in questo caso è quella meno probabile ecco. I genitori di Jennifer comunque nonostante siano ormai passati 17 anni non si sono mai arresi ancora oggi continuano a cercarla e hanno fatto stampare anche delle foto con la descrizione della figlia su un mazzo di carte che hanno distribuito in tutte le carceri della Florida e hanno praticamente fatto tutto quello che potevano fare però non hanno ottenuto nessuna risposta. Ancora oggi infatti Jennifer risulta scomparsa e non si sa che cosa le sia realmente accaduto. Queste sono tutte le informazioni che ho sul caso di oggi ci tenevo tantissimo a raccontarvi questa storia in un certo modo rispetto al primo video pubblicato sul mio profilo perché è una storia che mi sta davvero molto a cuore non lo so sarà che è una di quelle storie che davvero ti lascia una rabbia dentro perché sarebbe bastato davvero un secondo in più o un secondo in meno in quel filmato di video sorveglianze e probabilmente ad oggi avremmo avuto qualche risposta. Come sempre nel video io vi ho detto cosa ne penso quindi vi ho dato la mia considerazione personale perciò scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate voi di questa storia. Se volete seguitemi anche su Instagram mi trovate come marianna-molinaro oppure su TikTok mi trovate come svaniti nel nulla. Grazie per essere arrivati fino a questo punto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!